Bene, oggi andiamo a fare un unboxing un po' particolare e non so se avete notato ma la novità è che abbiamo rimontato il Blue Yeti qui nello studio. Ora sto facendo un accrocchio un po' strano perché sto utilizzando il Blue Yeti però lo sto alimentando dal computer e lo sto facendo passare via i trasmettitori della Synco per arrivare alla mia videocamera. Quindi è un giro un po' strano, vedremo se l'audio è venuto fuori bene dall'indicatore di segnale a monitor, a me sembra che sia corretto ma scoprirò se è andato bene solamente una volta che mi siederò a guardare il video. Dunque per l'unboxing di oggi non posso tenervelo nascosto anche perché avrete già letto il titolo del video, per cui una fotocamera, una Canon EOS R6 mi è accidentalmente caduta nel carrello della spesa e io quando arrivo in cassa e ho una cosa nel carrello poi mi vergogno a dire no costa troppo non la prendo allora la compro anche se mi è semplicemente cascata nel carrello io non avevo nessuna intenzione di prenderla. Scherzi a parte l'ho acquistata in seguito di un evento ben preciso, un video che ho già pubblicato che vi lascio linkato qui da qualche parte io questa fotocamera e videocamera l'ho già noleggiata tre volte negli scorsi mesi forse anche nell'ultimo anno e la prima volta ho pensato la noleggio questa volta e poi mai più perché tanto a me non serve la seconda volta ho pensato che bizzarra coincidenza la terza volta ho detto senti facciamo che la compro perché se continuo se l'affitto altre cinque volte è quello che avrei pagato comprandola quindi a questo punto ce l'abbiamo e qui e andiamo a fare un unboxing che per l'occasione è un unboxing vero sapete che io di solito li faccio finti e invece oggi lo facciamo per davvero allora qui abbiamo i miei fogli dell'acquisto con lo scontrino questo non vi interessa qui abbiamo le istruzioni per canon image.canon che è il sito per stoccare le immagini e ti vendono dello spazio di archiviazione libretto di istruzioni con tutte le lingue più una fra l'altro fatemi sapere in un commento se vi interessa perché stavo pensando visto che è una macchina non è nuova però è l'ultima che ho preso e non l'ho mai fatta questa cosa di andare a prendere il libretto di istruzioni e non è che vi leggo il libretto però stavo pensando di fare una serie di video in cui andiamo a vedere una per una le funzioni in maniera tale che vediamo veramente tutto quanto come funziona fatemi sapere se vi può interessare questo è il packaging del caricabatterie io credo di averne tipo 10 di questi ormai non so più dove ficcarli perché la batteria è sempre la stessa io faccio apposta a comprare macchine che hanno sempre la stessa batteria così sono tutte compatibili per questo non ho preso R8 qualcuno se lo starà domandando è per questo che non ho preso R8 questo è il motivo il sensore stabilizzato non me ne frega niente a me mi fa un baffo anzi spesso non lo uso neanche non l'ho mai usato in vita mia quindi non è che se improvvisamente se non ho il sensore stabilizzato non riesco più a fare le foto no non è così le ho sempre fatte le faccio comunque il vero motivo per me è questo è la batteria e veniamo alla batteria perché questa qui è la batteria fornita sembra blu perché c'è la plastichina blu ma in realtà è nera è una batteria normalissima la LP come cavolo si chiama quella nuova quindi quella che ci consente anche di utilizzare la la mirrorless attaccata alla corrente con il cavetto costosissimo che ormai ho comprato quindi quando capita lo uso bella batteria proseguiamo e qui abbiamo il filo per caricare la batteria un'altra cosa che non credo che userò ma non perché sia inutile perché ci hanno già uno attaccato anzi due o tre attaccati in parti diverse dell'ufficio attacco lì quando mi serve quindi non me ne serve un altro ora devo dire solleviamo devo dire che hanno messo un sacco di plastica in questi packaging che non sono male sono dei bei packaging però devo dire che hanno messo veramente un sacco di plastica tracollina tracollina brandizzata R6 molto caruccia io le tracolle non le uso ho una collezione di tracolle in tonse perché non le ho mai usate in vita mia e mai comincerò secondo me non le userò mai a questo punto però ne ho lì veramente tante tutte in tonse e questa finisce lì insieme alle altre io lo so che cosa state aspettando state aspettando che io tiri fuori questa adesso andiamo a andiamo a sollevare il sigillo che io non lo rompo vedete lo sollevo non si sa mai conseguenze legali eccoci qui e qui abbiamo la nostra bellissima macchinetta eccola qua la conosciamo già la conosciamo già tutti perché io stesso ne ho già parlato sul canale ve l'ho già fatta vedere è una macchina che ogni volta che l'ho usata mi ha sempre dato l'idea di avere qualcosa che mancava al tempo stesso ogni volta che l'ho usata mi ha convinto sempre di più perché nonostante le manchi qualcosa le manca le manca qualcosa rispetto alla 5d mark 4 che io adoro è vero però ha delle cose in più le manca qualcosa rispetto alla canone osr che pure mi è piaciuta molto come macchina però anche qualcosa in più su altri versanti le manca qualcosa rispetto a r7 che sto usando in questo momento per fare video però ha molto di più sotto altri punti di vista quindi è una macchina che posso considerare per me veramente il punto d'arrivo di quelle che sono le fotocamere e videocamere ibride con questa nello zaino io sono tranquillo che mi chiedano una foto che mi chiedano un video gli posso sempre dare un prodotto di fascia alta adesso andiamo immediatamente a ecco andiamo a impostare m qui sopra cosa che difficilmente andrò a togliere no non è vero non è vero invece toglierò m per andare a mettere la modalità video ogni tanto ma solo per quello perché qui se ricordo correttamente qui c'è l'icona dei video sulla ghiera dei modi quindi qui per andare a fare video bisogna impostare qui dalla ghiera che dire ragazzi monitor abbiamo il suo monitor tiltabile articolabile abbiamo il joystick per i feticisti di questa feature qui abbiamo il joystick cose che non mi piacciono di questa macchina ce n'è una sola c'è una sola cosa che non mi piace di questa macchina il selettore per passare da modalità foto a modalità video io so che sulla mark 2 c'è il selettore qui non c'è io avrei voluto quel maledetto selettore l'avrei voluto veramente tanto ma il motivo per cui non ho preso la mark 2 oltre al prezzo ovviamente perché è inutile che vi racconti balle il motivo è la dimensione dei file e la risoluzione del sensore perché in questo caso abbiamo un sensore da 20 megapixel nel caso della sorella maggiore abbiamo un sensore più denso e quindi mi è sembrato di capire da varie risorse che ho consultato che avrei avuto oltre sicuramente a dei file più pesanti avrei avuto delle prestazioni di messa a fuoco migliori ma questa è più che sufficiente per quello che devo fare io la cosa che non mi piaceva tanto era l'idea di avere un sensore più denso e quindi di avere oltre a foto più grandi e più pesanti di avere anche una performance lievissimamente più carente per quanto riguarda gamma dinamica e sensibilità ad alti ISO lo so che ormai si compensa elettronicamente in altri sistemi però questa mi è sembrata una soluzione ideale per quello che devo fare in questo momento indubbiamente questa manda un po' in pensione tante macchine che ho qui quindi da un certo punto di vista mi dispiace anche perché io non voglio mandare in pensione le mie macchine ci ho lavorato tanti anni quindi cercherò di usarle tutte quante a rotazione perché comunque non voglio abbandonarne nessuna siccome mi piacciono le mie macchine per me sono come un orologio vintage come una macchina da corsa di quelle di una volta non è che se compro l'utilitaria per andare in città allora non voglio più la mia Jaguar F-Type non ho una Jaguar premesso che purtroppo non ho una Jaguar però se ce l'avessi non la userei per andare a fare la spesa al supermercato la terrei in garage per usarla in rare occasioni ma non la butterei certo via perché ho preso un'utilitaria per andare a fare la spesa ecco il concetto è un po' questo esattamente allo stesso modo questa è una macchina moderna non è un'utilitaria non è assolutamente un'utilitaria però manda veramente in pensione tante delle mie macchine e a questo punto ragazzi questo era solo un unboxing quindi fatemi sapere in un commento se volete vedere qualcos'altro riguardo a questa macchina se facciamo un ripasso di quelle che sono tutte le principali opzioni per foto e per video fatemelo sapere qui sotto in un commento vi ricordo anche di iscrivervi al canale per chi non l'avesse ancora fatto così non vi perdete le puntate successive io e Canon EOS R6 vi diamo appuntamento al prossimo video ciao 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 ciao